Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video sintesi di scienze. Prima di vederla invito tutti ad iscrivervi al canale dato che risulta che circa il 90% delle visualizzazioni sono da non iscritti e ad attivare la campanella delle notifiche. Il nostro apparato respiratorio è formato dai polmoni e dalle vie aeree. Attraverso le vie aeree l'ossigeno presente nell'aria che respiriamo arriva ai polmoni che lo cedono al sangue tramite il quale arriverà a tutte le cellule che a loro volta lo utilizzeranno per ricavare energia tramite la respirazione cellulare. La respirazione cellulare produce un gas di scarto, l'anidride carbonica, che attraverso il sangue torna ai polmoni e compiendo un percorso inverso rispetto all'ossigeno attraverso le vie aeree viene restituita all'aria atmosferica. Vediamo qui uno schema dell'apparato respiratorio nell'uomo. L'aria può entrare nel nostro corpo attraverso il naso dove viene filtrata e vengono trattenuti e successivamente eliminati nel muco che lo riveste batteri, polveri sospese o altre impurità, oppure attraverso la bocca dove non viene filtrata. L'aria che fa il suo ingresso nel nostro corpo attraversa in seguito la gola o faringe tratto in comune agli apparati respiratorio e digerente. Le vie aeree, a partire dal naso, sono rivestite da un epitelio di rivestimento formato da cellule ciliate, il quale produce uno spesso strato di muco. Le ciglia che rivestono le cellule si muovono per sospingere microbi e polveri intrappolati nel muco verso l'esterno, dove poi verranno espulsi, ad esempio quando sternutiamo. Vediamo adesso un'immagine al microscopio di questo epitelio, si vedono le ciglia e i nuclei delle cellule disposti su più altezze. L'aria in seguito transita per la laringe, a forma di piramide o di cono rovesciato, che è anche e che contiene le due membrane elastiche che formano le nostre corde vocali. A seguire, l'aria passa attraverso un tubo lungo svariati centimetri, la trachea, che è tenuta aperta tramite anelli di cartilagine di rinforzo. Questi ultimi sono incompleti per consentire i movimenti dell'esofago che confina con la trachea. La trachea si biforca in seguito nei due bronchi principali, che poi si suddividono in bronchi secondari e terziari, fino a formare una sorta di albero rovesciato, che si chiama appunto albero bronchiale. Questi, bronchi secondari e terziari, sono sempre più sottili fino ad arrivare ai bronchioli terminali, ciascuno dei quali termina con un grappolo di cavità microscopiche dette alveoli polmonari. E infine arriviamo ai polmoni. I polmoni sono la parte più importante del nostro apparato respiratorio. Cedono al sangue l'ossigeno dell'aria inspirata e ricevono l'anidride carbonica di rifiuto per eliminarla. Sono alloggiati nella cavità toracica e sono organi grandi ma molto leggeri perché formati dall'insieme di milioni di cavità microscopiche piene di aria, gli alveoli polmonari. Di conseguenza, questi organi hanno una consistenza spugnosa. La superficie dei polmoni disponibile per lo scambio dei gas col sangue è enorme. Se distendessimo su un piano tutti gli alveoli, arriveremmo ad una superficie media di 70 metri quadrati a persona. Ogni alveolo è inoltre circondato da una fitta rete di capillari sanguigni provenienti dalle arterie polmonari in blu che cedono anidride carbonica e si caricano di ossigeno per tornare al cuore tramite le vene polmonari che vediamo in rosso. Ossigeno e anidride carbonica passano dal sangue agli alveoli e viceversa tramite il meccanismo della diffusione, spinti dalle differenze di concentrazione o meglio di pressione parziale tra sangue e alveoli. L'ossigeno è più concentrato nell'aria alveolare e passa nel sangue. L'anidride carbonica è più concentrata nel sangue che arriva dai capillari delle arterie polmonari e passa negli alveoli. La differenza di pressione parziale dei due gas è molto più grande per l'ossigeno perché è un gas poco solubile in acqua e fatica di più ad attraversare lo strato di acqua che separa capillari e alveoli. Per capire come i gas respiratori passino dall'atmosfera alle nostre vie respiratorie e viceversa, occorre ricordare che i gas si spostano grazie a differenze di pressione. Un'importante legge fisica, la legge di Boyle, ci dice che se io comprimo una certa quantità di gas in un volume minore, ad esempio a selo di mezzo, la pressione aumenta e per l'esattezza in questo caso raddoppia. Viceversa, aumentando il volume a disposizione delle molecole del gas, la sua pressione diminuisce secondo lo stesso rapporto. E' proprio questo quello che succede ai nostri polmoni, che nei due diversi movimenti respiratori di inspirazione, quando l'aria carica di ossigeno entra, e di espirazione, quando espelliamo l'aria carica di anidride carbonica, cambiano il loro volume, espandendosi e contraendosi e variando quindi la pressione dei gas al loro interno. I polmoni non sono muscoli, ne hanno una propria muscolatura, ma vengono trascinati dai movimenti della gabbia toracica, a cui sono strettamente ancorati tramite due membrane, le pleure, separate da un piccolo spazio pieno di liquido. I muscoli che permettono tutto questo sono i muscoli intercostali, che si trovano tra una costola e l'altra, e il diaframma, muscolo appiattito, che separa in basso la cavità toracica da quella addominale che ospita l'intestino. Durante l'ispirazione, i muscoli intercostali si contraggono espandendo la gabbia toracica, in fuori e verso l'esterno, e il diaframma si abbassa, aumentando il volume di gabbia toracica e polmoni. Quindi la pressione al loro interno diventa più bassa di quella atmosferica e l'aria passa dall'atmosfera ai polmoni attraverso le vie aeree. Durante la espirazione succede il contrario, i muscoli intercostali si rilassano riducendo il volume della gabbia toracica. A questo contribuisce l'innalzamento del diaframma. La pressione dei gas di scarto nei polmoni aumenta, diventa più alta di quella atmosferica e i gas di rifiuto vengono naturalmente restituiti all'aria dell'atmosfera. La respirazione generale non va confusa con la respirazione cellulare, il processo fondamentale svolto da tutte le cellule per ricavare l'energia necessaria a svolgere le loro numerose attività. Questa, la respirazione cellulare, richiede zuccheri, soprattutto glucosio e ossigeno, portati alle cellule dal sangue. Avviene in particolari organelli interni alla cellula, i mitocondri, considerati le nostre centrali energetiche in miniatura. Questi sono avvolti da due membrane di cui quella interna è ripiegata. Queste due membrane creano spazi separati dove avvengono le diverse fasi di questo importante processo. Possiamo considerare la respirazione cellulare come la controparte della fotosintesi che svolgono le piante attraverso organelli esclusivi delle loro cellule, i cloroplasti, in cui anidride carbonica e acqua, tramite l'energia della luce solare, sono trasformati in zuccheri e ossigeno, disponibili per la respirazione cellulare delle piante stesse e di tutti gli esseri viventi che si nutrono di piante, noi compresi. La respirazione cellulare, però, non è semplicemente la reazione inversa della fotosintesi, ma un processo piuttosto complesso diviso in almeno tre fasi e che avviene in parte nel citoplasma della cellula e in parte nel mitocondrio, utilizzando tutti gli spazi interni dell'organello. L'energia prodotta dall'insieme delle sue reazioni è immagazzinata in una molecola che si indica con la sigla ATP, che viene continuamente utilizzata per tutte le attività cellulari e che tramite la respirazione cellulare si riforma continuamente nelle nostre cellule. Per vedere la video lezione completa, anzi le video lezioni complete che sono due, link in descrizione o cliccando sulla schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima video lezione!